Un'ala del complesso a piano terra è destinata ad uffici e magazzini. Un'altra parte ospita un laboratorio di restauro, attività didattiche e laboratori tematici rivolti ai visitatori e agli studenti. Per ulteriori approfondimenti, i visitatori possono partecipare alle varie opportunità didattiche o ai laboratori offerti dagli operatori del museo. Per ulteriori approfondimenti, i visitatori possono partecipare alle varie opportunità didattiche o ai laboratori offerti dagli operatori del museo. Per ulteriori approfondimenti, i visitatori possono partecipare alle varie opportunità didattiche o ai laboratori offerti dagli operatori del museo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.